Ciao a tutti, siamo qui via Palmarola, ci ha segnalato un nostro simpatizzante che in questa via ci sono tantissime buche ma questa è una situazione brutta in tutto il municipio 19. Sentiamo Angelo, il programma del Presidente Emilioni cosa diceva e le sue promesse in questi 4 anni di governo? Il Presidente quando si è presentato ai cittadini nel 2008 ha dichiarato di essere a conoscenza della situazione, in particolare diceva al pari della qualità dei servizi deve essere posta la qualità degli investimenti, la loro produttività e l'impatto sul miglioramento delle condizioni di vivibilità di un municipio caratterizzato dal caos, di un traffico crescente, di un degrado ambientale che va dalle strade disastrate alle buche alla pulizia insufficiente. Quindi strade disastrate e buche sono al numero 1 del programma di 20 milioni, vediamo se ha mantenuto gli impegni. Bla 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 Io fermo il traffico qui vai Altra equa Siamo inizialmente a concludere i tempi. Sarebbe interessante fare un raffronto con l'estero e di come vengono rattoppate le fughe.